ciao a tutti e bentornati per questo nuovo episodio sulla tattica siamo a 1508 continuiamo la nostra salita avevo detto che farò questi episodi finché non arriverò a 2400 punti o almeno ci proverò e vediamo cosa ci dice questo esercizio allora in questo esercizio se non mi sbaglio abbiamo un pezzo meno giusto due torri contro due torri donna contro donna e lui ha cavallo e alfiere per il cavallo perfetto catture ci sono perché comunque non c'è scacco ricordo a tutti che una buona un buon metodo di analisi è quello di iniziare a calcolare se c'è scacco qui scacco non c'è quindi c'è una cattura che è questa oppure questa ci sono due catture qui in realtà una è questa e una è questa ovviamente se giochiamo torre mangia f5 in questa posizione non otteniamo nulla perché il bianco riprende semplicemente indietro di pedone e non abbiamo guadagnato niente invece dopo donna mangia f5 se il bianco dovesse catturare indietro in questo caso possiamo riprendere possiamo riprendere la regina e abbiamo guadagnato una torre netta e in quel caso passiamo in vantaggio io direi che è questa la soluzione qui mi sembra troppo semplice questo sacrifico la regina ok allora impostiamo un attimo sul silenzioso perché se no da noi a vai sacrifico la regina come avete visto il motore ha dato scacco abbiamo la donna impresa in questa posizione quindi credo che basterà tornare indietro ok perfetto e questo è risolto addirittura mi ha dato ben 18 punti questo esercizio vediamo se oggi riesco a salire almeno a 1700 ok vediamo quest'altro esercizio via via ovviamente diventano sempre più difficili vediamo qui qual è il tema allora scacco non c'è potrei sacrificare la torre ma non vedo niente quindi non dovrei riuscire a guadagnare niente in questa posizione ciò che mi viene in mente però è che la regina non ha molte case quindi la regina nf4 è un pezzo piuttosto debole qui non può venire qui non può venire qui non può venire non può venire non può venire non può andare da nessuna parte tranne questa traversa ma se io giocassi qui torre g4 controllo tutta questa traversa e la donna del nero non dovrebbe più avere case dove andare quindi dovrei guadagnare la donna io provo torre g4 ok ha dovuto sacrificare anche questo esercizio risolto più 12 comunque iniziano ad essere più carini stanno iniziando a piacermi questi esercizi vediamo qui in questa posizione in questa posizione abbiamo torre e alfiere per le due torri quindi il nero qui è in vantaggio di materiale però vedo che con questa mossa re c6 qui minacciamo praticamente scacco matto e inoltre attacco la torre quindi dopo re c6 l'unica cosa che qui il nero può fare è dare scacco però in quel caso comunque guadagno la torre anche questo mi sembra abbastanza semplice io vado per re c6 ok era la mossa giusta e qui guadagno la torre perfetto più 9 passiamo al prossimo vediamo qui cosa abbiamo questo sembra abbastanza interessante allora qui abbiamo un pezzo meno quindi abbiamo un pezzo meno qui però ci sono diverse cose interessanti allora scacco non c'è ci sono diverse catture una è questa una è questa e una è questa inizio a scartare subito torre f4 perché sembra che non porti a niente quindi devo scegliere tra alfiere per f4 e pedone per e6 se io gioco alfiere per f4 qui riprendo semplicemente indietro il pezzo quindi non ottengo un vantaggio se invece gioco pedone mangia e 6 minaccio matto in 1 e minaccio la donna dell'avversario quindi io penso che sia pedone per e6 lui ha dovuto giocare g6 e a questo punto guadagno la donna perfetto anche questo è risolto ok vediamo il prossimo allora in questa posizione devo calcolare se c'è scacco vedo solo questo scacco qui mi devo chiedere cosa può fare l'avversario dopo lo scatto allora dopo alfiere c5 scacco lui può giocare due mosse o re h1 o re h2 vanno calcolate entrambe dopo re h1 cosa posso fare dopo re h1 forse posso dare scacco deve fare per forza re h2 a quel punto guadagno la qualità se invece gioca dopo alfiere c5 e re h2 subito posso giocare donna mangia f4 quindi mi sembra questa la soluzione di questo esercizio proviamo a farla scacco ok mi ha dato subito la torre addirittura molto strano mi ha dato la torre io mangio gli alfiere ok perfetto più 6 quindi non tantissimo non mi ha dato tantissimi punti in realtà ok passiamo il prossimo vediamo com'è la situazione qui allora cavallo e due alfieri contro due cavalli e alfiere quindi mossa al bianco devo capire un po come sfruttare questa situazione scacco ovviamente non c'è il re è al sicuro c'è una cattura in d3 da parte del bianco tramite l'alfiere devo vedere se porta qualcosa dopo alfiere mangia d3 credo che il nero catturerà in d3 e a questo punto vedo c4 una forchetta su cavallo e donna lui può fare cavallo f6 io mangio la donna lui mangia la donna però poi c'è torre mangia e 4 dovrei riuscire a guadagnare qualcosa quindi io vado per alfiere mangia d3 sperando che sia buona perfetto me l'ha data giusta e ora ecco vedevo questa forchetta qui non ci dovrebbero essere problemi giusto ok ottimo vai quella era la soluzione vediamo questa questa allora abbiamo due torri cavallo e alfiere contro due torri e due cavalli poi ovviamente le donne in questa posizione ciò che mi viene in mente è questo allora qui vedete che c'è una cattura però per ora non possiamo catturare il cavallo perché abbiamo solo due pezzi e lui lo difende con due qui mi viene in mente cavallo g4 per cercare di dare praticamente scacco matto e dopo cavallo g4 attacchiamo anche la torre quindi lui dovrà fare qualcosa su cavallo g4 se gioca torre h3 io gioco torre mangia cavallo e guadagno un pezzo invece su cavallo g4 se dovesse giocare che ne so torre 2 per esempio catturo e do scacco matto invece su cavallo g4 se dovesse giocare torre qui che si fa scacco re f1 scacco re 2 forse posso mangiare qui quindi dovrei essere in vantaggio a me piace cavallo g4 qui ok dice che è la mossa migliore però ha avuto un'idea molto interessante in realtà perché se io mangio qui il bianco deve mangiare io mangio in e2 in e7 scusate e se non sbaglio ok questo cavallo non è impresa perché il bianco rischia di prendere il matto del corridoio finale quindi dovrebbe essere questa ok perfetto esercizio risolto qui non può prendere il cavallo perché segue scacco matto vai prossimo ok per ora non mi stanno mettendo particolarmente in difficoltà qui ovviamente scacco non c'è catture non ci sono per esempio però vedo un grosso attacco sulla donna che è questo devo chiedere dopo questa mossa lui cosa può fare dopo questa mossa lui non può andare nessuna parte tranne che f5 può venire solo in f5 comunque però in f5 attacca attacca la torre quindi bisogna un attimo capire qui effettivamente cosa fare allora intanto faccio questa perché mi sembra un'ottima mossa ok è su donna f5 qui c'è un po da calcolare se gioco per esempio torre 7 per cercare di giocare al fiere di 3 non so quanto sia buona oppure potrei provare subito a giocare al fiere di 3 per poi spostare la torre qui inizia a essere abbastanza difficile questo allora vediamo un po come si risolve questo esercizio se gioco torre 7 qui lui cosa fa mettiamo che giochi torre e 8 su torre 8 io gioco al fiere qui donna mangia torre mangia invece se gioco torre 7 torre qui non la può fare allora torre 7 se gioca invece f6 se gioca f6 al fiere di 3 donna mangia qui torre mangia e pedone mangia g5 questo inizia ad essere abbastanza complicato in realtà cos'è che non vedo forse c'è semplicemente questa torre f4 perde la donna torre f4 dove va? da nessuna parte credo ok ho fatto un po di calcoli sbagliati in precedenza in realtà c'è torre f4 e perde la donna appunto vai anche questo è risolto siamo già a 1600 praticamente passiamo al prossimo questo è interessante lui sta minacciando h2 scacco però c'è rh1 quindi in questa posizione cosa potrei fare? mi viene da pensare torre per e6 e su torre per e6 minaccio torre per e7 minaccio di guadagnare un cavallo un pezzo netto però mi chiedo dopo torre per e6 cosa può fare lui? forse h2 scacco rh1 forse niente in realtà forse niente a me piace torre per e6 vai è la mossa giusta torre per e6 e a questo punto mi sembra abbastanza semplice no? perché se mangio qui non può prendere indietro perché c'è la torre impresa quindi alfiere mangia ed è risolto perfetto 1605 passiamo al prossimo questo mi sembra piuttosto semplice questo perché vedo una forchetta qui quindi vedo f5 forchetta a regina e cavallo e se dopo f5 il bianco dovesse fare cavallo per f5 o donna h2 scacco matto perché c'è l'alfiere quindi questo mi sembra estremamente semplice ah ok però ha giocato così e se qui catturo non ho un pezzo in più giusto? si ok catturo perché me la fa continuare questa? vabbè risolta prossimo oggi sto andando particolarmente veloce 1612 devo arrivare a 1700 almeno e poi iniziamo a fare seriamente allora qui ho cavallo per alfiere mi sta mettendo un pezzo in presa e non capisco come mai sta mettendo un pezzo in presa donna mangia h5 torre 7 probabilmente torre 7 dopo torre 7 forse posso giocare torre f7 e con torre f7 paro tutto giusto? io mangio torre f7 mi piace qui chissà se funziona torre f7 torre mangia c7 torre mangia c7 donna mangia c6 vengo qui e non ha niente torre f7 ok meno male è giusta attenzione perché ha giocato questa oi oi allora qui cosa si fa? forse donna g6 donna g6 ok perfetto l'ho risolto più 16 mi stanno dando un sacco di punti oggi però a me non sono sembrati difficilissimi per ora allora vediamo cosa c'è qui abbiamo tre pezzi leggeri contro tre pezzi leggeri il problema è che ancora non ho arroccato cosa potrebbe esserci qui? in questo momento ancora non vedo niente effettivamente forse alfiere mangia h7 alfiere mangia h7 se mangia di cavallo do scacco matto invece alfiere mangia h7 però non è obbligato a mangiare può giocare addirittura re h1 quindi forse non è quella la mossa giusta no non dovrebbe essere quella la mossa giusta questa è complicata donna h5 forse non mi sembra lenta donna h5 h3 per esempio alfiere mangia f3 pedone mangia f3 e forse donna mangia f3 ok forse è quella forse donna h5 non riesco a vedere altro qui c'è solo questa però non è obbligato a prendere può giocare re h1 e su donna h5 cavallo mangia quindi è in vantaggio lui se invece gioco donna h5 subito perfetto me la da buona se invece gioco donna mangia h5 subito qui a questo punto guadagno qualcosa sicuramente ah attenzione allora alfiere mangia f3 alfiere mangia b5 a mangia b5 donna mangia qui alfiere d5 dovrei comunque avere un pezzo in più dai ok me l'ha data buona questa era abbastanza strana prossimo 1642 quindi è normale che diventino via via più difficili qui abbiamo due alfieri contro cavallo e alfiere gli altri pezzi sono uguali qui c'è questo alfiere che è impresa e ovviamente se mangio di alfiere ah interessante allora se mangio di alfiere che succede? mangia la mia regina io posso catturare qui e lui mangia quindi non ho ottenuto niente se invece io mangio di regina qui dovrei guadagnare un pezzo netto io mangio di regina qui pezzo in più risolto più 12 qui secondo me mi ha dato troppo insomma più 12 in una posizione del genere parecchio questa invece mi sembra molto complicata ho la torre impresa e la regina impresa quindi ben due pezzi impresa però noto che c'è questo scacco qui quindi donna mangia g4 scacco re dove va il re? re h6 per esempio dopo re h6 cosa faccio? dopo re h6 posso anche fare questa penso oppure no perché c'è lo scacco di scoperta dai donna mangia qui la devo fare penso ok perfetto re h7 addirittura addirittura in h7 questa è strana perché se viene in h7 ovviamente posso dare posso mangiare con scacco almeno che non ci sia qualcosa di addirittura migliore per esempio scacco re qui scacco no c'è cavallo che torna indietro quindi dai questa la devo fare mi sembra forzata e ora devo decidere se mangiare di di donna o di torre questo è un bel dilemma devo capire se mangiare di donna o di torre perché non è la stessa cosa evidentemente se mangio di torre lui probabilmente viene qui e perdo la regina quindi se mangio invece di di donna dopo lo scacco posso venire via quindi mangio di donna perfetto questo era complicato più 17 punti qui ci stanno proviamo a passare al prossimo allora anche questo mi sembra abbastanza complicato effettivamente cosa si fa qui c'è questa cattura però non mi sembra serva qualcosa mangio lui per esempio può mangiare anche di alfiere in quel caso scacco non c'è forse c'è questa infilata qui alfiere h4 attacco regina e torre quindi se fa f6 a quel punto guadagno un pezzo guadagno la torre in d4 vediamo se è questa la soluzione giusta ok perfetto qui guadagno la qualità vai 1682 manca poco ora mancano 18 punti sperando di non sbagliare nulla ora lui qui minaccia matto in 1 quindi minaccia matto in 1 e ha un bel attacco effettivamente allora se io gioco h6 forse fa cavallo mangia f7 torre mangia f7 alfiere per h6 alfiere per h6 torre donna mangia h6 ma non mi convince qui l'attacco del nero sinceramente mi devo parare dal matto e devo fare h6 lui addirittura torna indietro e qui guadagno un pezzo a meno che non ci sia qualcosa di meglio addirittura però non mi sembra perché cavallo qui lui mangia qui guadagno un pezzo perfetto vai mancano 12 punti forse gli ultimi 2 vediamo anche qui ovviamente se li risolvo qui che si fa qui che si fa allora la regina è attaccata ai raggi x pezzo debole se gioco cavallo d4 qui come vedete ora iniziano ad essere un pochino più complicati perché non ci sono né scacchi né catture quindi mi viene in mente cavallo d4 attacco la donna con la torre ma attacco anche il cavallo la donna non può più difendere il cavallo quindi dovrei vincere almeno un pezzo vai cavallo qui perfetto ha sacrificato addirittura la donna quindi anche questo è risolto vediamo questo forse è l'ultimo addirittura qui siamo senza regina questo è clamoroso siamo senza regina attenzione che cos'è sta roba allora qui catture non ci sono scacchi non ci sono ma ah ok allora sto notando che la regina ha poche case dove può andare ma insomma probabilmente qui forse no perché c'è lo scacco di scoperta ok qui no quindi su questa triangolare no qui no qui no qui no quindi forse basta questa torre c2 attacco la donna dove va? da nessuna parte credo torre c2 vai ecco è stato costretto a sacrificarla più 11 1705 buono buono il punteggio inizia a prendere forma oggi mi sono divertito con gli esercizi di tattica perché iniziano ad essere più seri e quindi anche più divertenti quindi oggi siamo passati da 1500 a 1700 è stata una buona sessione sulla tattica grazie a tutti per la visione di questo video ciao a tutti a presto